e ripresa. Avverto che le proposte di risoluzione dovranno essere presentate entro la conclusione della discussione generale. Prima di dichiarare aperta la discussione generale mi corre l'obbligo di segnalare di un gesto non proprio elegante, voglio essere molto light, avvenuto mentre salutavo gli studenti di una scuola di Roma. C'è stato da parte di uno degli studenti un gesto con due dita e il pollice alzato puntati verso il Presidente del Consiglio immediatamente represso da una delle insegnanti che mi piace qui segnalare per condannarlo nella maniera più decisiva anche se si tratta di un ragazzino.